Buongiorno a tutti e benvenuti a un nuovo episodio del podcast dell'autonoleggio. Io sono Mauro Chiarugi e per chi non mi conoscesse sono il fondatore della Dogma Systems, la società che sviluppa il software Merent dedicato al mondo dell'autonoleggio e sponsor di questo podcast. Nei giorni scorsi con il mio team abbiamo cercato di identificare delle correlazioni per capire che cosa potrebbe accadere nei prossimi mesi, penso che questa potrebbe essere una domanda ai quali i nostri clienti vorrebbero trovare una risposta, ma sia nei prossimi mesi ma anche più vicino nelle prossime settimane. Che cosa succederà? Così abbiamo cercato di incrociare alcuni dati relativi ovviamente alle transazioni di Merent e altri dati macroeconomici e relativi all'andamento del Covid. Ovviamente abbiamo da subito rilevato un certo tipo di correlazione fra questi dati, tuttavia rispetto al numero dei malati che si registrano giornalmente, il dato più significativo che siamo riusciti a mettere in correlazione e in un qualche modo ad anticipare quelle che sarebbero poi state le pronotazioni ricevute e le cancellazioni è proprio il dato relativo al numero dei ricoverati in terapia intensiva per Covid. Premetto che innanzitutto chiariamo una cosa, questi dati provengono chiaramente dal governo italiano, sono pubblici e fanno riferimento all'andamento nazionale relativamente ai ricoverati, mentre i dati del Merent fanno parte, sono dei dati anonimi relativi alle transazioni che abbiamo ricevuto. Ecco, la registrazione del numero dei malati in terapia intensiva è iniziata il 24 febbraio del 2020, oggi è il 3 febbraio, quindi non abbiamo ancora un anno di dati, non possiamo fare una comparazione ovviamente anno su anno, però diciamo il dato che emerge a un suo interesse. Infatti possiamo notare, trovate un articolo e il relativo grafico sul nostro sito internet che è myrentsoftware.com, andate nel menu risorse e quindi blog, ecco dicevo possiamo notare che l'aumento del numero dei ricoverati, in particolare l'accelerazione del numero dei ricoverati, quindi la pendenza della retta, la derivata, ecco per chi vuole un concetto proprio matematico, della curva del numero dei ricoverati anticipa il crollo delle prenotazioni e l'aumento delle cancellazioni, quindi se aumenta il numero dei ricoverati abbiamo visto che a distanza di qualche settimana crollerà poi il numero delle prenotazioni e questo è un indicatore che si verifica prima quindi del crollo della domanda. È vero anche il contrario, cioè la diminuazione dei ricoverati anticipa la ripresa di prenotazioni e contratti, ok? Diciamo quindi si vede abbastanza chiaramente, si vede meno anno scorso seppure è un dato presente, si vede ancora di più negli ultimi mesi. Ecco queste considerazioni non sono niente di trascendentale, la logica avrebbe già potuto portarci a pensare questo infatti, perché se ci ragionate, se pensate un attimo, effettivamente sappiamo che all'aumentare del numero dei ricoverati in terapia intensiva, in automatico i governi nazionali intraprendono delle misure restrittive, i cosiddetti lockdown e quindi vanno a limitare la libertà delle persone, degli spostamenti e chiaramente questo comporta il crollo della domanda di lì a stretto giro. Ovviamente questa curva aumenta già ai primi casi, i provvedimenti vengono presi dopo, ecco perché è significativo analizzare la curva, l'andamento della curva del numero dei ricoverati, perché con qualche settimana, due o tre settimane, da una a tre settimane d'anticipo ci fa capire che cosa succederà. Sebbene il numero di malati in terapia intensiva rimane ancora elevato, perché siamo oltre i 2000, questa analisi però può far sopporre che se il numero di malati in terapia intensiva continuerà a diminuire anche nei prossimi giorni, come sta facendo nelle prossime settimane, è possibile appunto che si ripeta questo trend e la domanda dell'autonarigio continuerà ad aumentare come ormai sta avvenendo da subito dopo Natale, perché subito dopo Natale, prima ancora di Capodanno abbiamo iniziato a registrare un tende realzista. Ecco, potete trovare il grafico, come vi dicevo, sul nostro sito internet, myrentsoftware.com, risorse blog, condivideteci pure la vostra opinione, se avete notato anche qualcos'altro che si può mettere in correlazione, e vi ringraziamo ancora per essere iscritti al nostro podcast e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao da Mauro.